Il Palacongressi di Rimini risponde perfettamente alle esigenze di questo evento perché noi, come dico, non facciamo un evento, non facciamo una fiera, non facciamo una sagra, ma è un mix di tutto questo tutto insieme. E quindi una struttura normale non può offrire questo servizio. Ci vuole una struttura che abbia a disposizione uno spazio espositivo, una struttura che abbia a disposizione tante sale di grandi e di piccole dimensioni, una struttura che anche in qualche maniera deve comunicare benessere. Quindi il fatto di essere immersi in un parco con vetrate molto ampie, quindi molta luce, molto legno è stato utilizzato nella realizzazione di questo Palacongressi, fa sentire già le persone bene. Cioè io già adesso giravo fra gli espositori, non è ancora iniziata la manifestazione, già mi dicevano si sente una bella energia, ma perché già in sé il Palacongressi ha una bella energia per come è stato costruito e come è stato realizzato. Grazie a tutti.